Ricominciamo a percorrere le terre modenesi, le eccellenze, i suoi prodotti, le aziende e l'ambiente che le circonda. Parliamo di agricoltura, di prodotti della terra, di curiosità nelle nostre coltivazioni modenesi. A cielo aperto la rubrica dedicata all'agroalimentare del nostro territorio, ricca di informazioni e notizie non solo per agricoltori. Ci incontriamo tutte le domeniche su TRC alle 13.10.